TopoTip, viva la pappa! TopoTip mangia la pappa. Le galline fanno le uova, che sono buone e nutrienti. La pasta ha tante forme. A te quale piace di più? Il pane appena sfornato ha un profumo buonissimo. Il formaggio preferito di TopoTip è quello con i buchi. Le mucche fanno il latte, che si beve a colazione. Tip è un topino goloso. È congelato con fragola, pistacchio e cioccolato. Le caramelle sono buone, ma fanno male ai dentini. Come è dolce la marmellata che fa la mamma di TopoTip. TopoTip mangia dai nonni. In campagna dai nonni, Tip mangia le carote dell'orto. TopoTip coglie dall'albero una bella mela rossa. Nella vigna dei nonni ci sono tanti grappoli d'uva. TopoTip fa una festa. Oggi è il compleanno di Tip. Che splendida torta! Per i suoi amici ci sono tanti lecca-lecca alla frutta e tanti pasticcini al cacao con la ciliegina sopra. Gnam! TopoTip va a nanna. È sera. Prima di dormire Tip beve un biberon di latte. Fine e buonanotte a tutti. Per i suoi amici. Contouris!